I social media sono stati la rivoluzione con cui tutti noi che lavoriamo nel settore hanno impattato in maniera molto complessa. Per noi parlo sia di noi che facciamo la parte di ufficio stampa sia la parte dei giornalisti e inizialmente sono stati usati anche male. La cosa fondamentale è che si capisca che bisogna conoscerli, conoscerli bene, tutti quanti hanno una loro specifica e comunque sicuramente la cosa più importante da capire è che sono molto più veloci di quanto siamo veloci noi. Una campagna sui social media può essere una campagna di marketing, allora ci sono degli investimenti pubblicitari, oppure una campagna proprio di ufficio stampa attraverso cui si può decidere di diffondere un messaggio. L'ideale è che il messaggio non resti fermo al social media ma venga rimbalzato sugli altri mezzi di comunicazione, quindi che magari parta da un social media e poi venga ripreso dalla stampa scritta, dalle televisioni, eccetera. Quello è il compito principale del social media se c'è una comunicazione ben gestita, che ci sia proprio un circolo di comunicazione. Bisogna essere pronti, avere le tecniche per cercare soprattutto di gestire la crisi, cercare di convincere i clienti a non prendere iniziative improvvise e senza controllo perché possono danneggiare in maniera anche molto molto grave l'immagine di un'azienda o di un personaggio. Basti pensare a quando appunto magari degli artisti, cantanti, attori scrivono cose improvvide sui loro social, questo insomma crea un problema. Quindi se c'è una gestione sapiente e professionale dell'ufficio stampa, della comunicazione, tutto questo deve essere assolutamente gestito in una maniera che invece si trasformi in un effetto benefico. Un post fatto male può creare un danno enorme, un danno economico, per questo bisogna affidarsi a dei professionisti, bisogna affidarsi a professionisti che sanno sia come si fa e sia a professionisti che ci stanno. Perché poi il problema è che spesso uno si affida a professionisti che poi non vengono trovati nei momenti fondamentali e questo fa passare del tempo. Io ho fatto tutte le parti della comunicazione perché sono giornalista, quindi ho lavorato dall'altra parte e ho vissuto la crisi dell'editoria, poi sono passato dalla parte della comunicazione. Però credo che con l'avvento dei social il mondo della comunicazione continua a essere in espansione, sicuramente se non si hanno delle preclusioni di genere, di settore, eccetera, se uno è disposto comunque anche a variare là dove il mercato lo richiede. Però assolutamente sì, ci sono dei grandi spazi secondo me, soprattutto se uno riesce a diventare esperto, prezioso per un cliente o per un'azienda.